Il piano straordinario per la sicurezza nelle cave varato dalla regione toscana nel 2016 ha consentito nel 2017 di quadruplicare i controlli nelle 300 aziende del comprensorio Apo Versigliese portandoli da 280 a 885. Il punto della situazione è stato fatto a Lucca nel corso di un incontro a cui hanno partecipato il presidente della regione Enrico Rossi, il procuratore di Lucca Piero Suchan, i tecnici regionali delle ASL e dell'ARPAT, i carabinieri forestali, la direzione marittima, sindacati e categorie economiche. Sono stati fatti numerosissimi controlli, l'aspetto migliore è che dai controlli sono emerse anche problematiche che hanno visto al lavoro insieme i tecnici della regione, i tecnici dell'ASL, i tecnici dell'ARPAT per dare linee guida che facessero chiarezza su tutta una serie di aspetti, sui comportamenti corretti che dovevano essere assunti. Il piano avrebbe dovuto concludersi nel 2018 ma la regione ha aggiunto allo stanziamento iniziale di 2 milioni e mezzo di euro altri 750 mila euro per prorogarlo fino al 2020. Stiamo predisponendo il piano delle cave regionale e ci stiamo anche preparando ad una revisione della legge che consenta di premiare di più attraverso un allungamento delle concessioni quegli imprenditori che già fanno pratiche positive e che si impegnano a presentare progetti industriali che sul piano ambientale, sul piano della sicurezza ma anche sul piano dello sviluppo dell'occupazione, cosa che ci preme perché il lavoro è al primo punto, diano maggiori certezze. Il Presidente Rossi ha proposto anche di avviare percorsi di formazione professionale specifici per le cave fin dalle scuole superiori, ribadendo la necessità di conciliare lo sviluppo di questo settore con la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell'ambiente. Rilevante più che i singoli controlli che pure ovviamente nella specifica concretezza hanno la loro assoluta rilevanza predominante è la formazione, la crescita di una sensibilità congiunta e comune dei vari protagonisti del progetto verso i reali problemi del settore grave. Quindi questa sensibilità è sicuramente cresciuta ed è un grosso risultato. Grazie a tutti.